Corsa Marco prima. Passi Monica sull'erba prima. Io mi ricordo di un sogno che ho fatto più o meno un anno fa. Era una sfida. Consisteva nel riuscire a fare un percorso nel minor tempo possibile. Questa sfida era simile a un parkour, solo che era molto molto in alto. E se cadevi sotto non c'era nulla. Dovevi salire su una scala altissima e poi iniziare a farlo. Io ci provavo, ci provavo e ci riprovavo, ma non ci sono mai riuscito. Ad un certo punto mi sono arreso. E basta. Dovevi salire. Grazie a tutti.